Buongiorno Stray, quindi il Milan prende tre pappine dalla Paris Saint-Germain e alla fine deve anche baciare a terra perché la differenza è proprio tanta. Eppure questo Paris Saint-Germain è uno dei Paris Saint-Germain più scarsi degli ultimi dieci anni e alla fine il solo Mbappé è come stella, poi non me ne vengono in mente altri. Appena l'asticella si alza il Milan va in difficoltà, l'abbiamo visto contro l'Inter, l'abbiamo visto contro la Juventus e l'abbiamo visto ieri contro il Paris Saint-Germain. Tolton Mbappé che davvero è un mostro, questo Paris Saint-Germain non fa proprio paura, eppure il Milan è andato e ci ha sbattuto contro. Che cosa dire del Milan? Io l'unico, giuro a me dispiace perché io se il Milan perde in campionato o l'Inter o la Juve mi faccio una risata. In Europa no, in Europa mi sento anche, anzi, rappresentato da loro perché io guardo le partite tifando per le squadre italiane. Quindi quando vedo che poi si va a perdere ci rimango anche male. Mignan è l'unico che arriva a prendere la sufficienza per me, come l'ha presa Mirante contro la Juventus. Però, signori, quando il portiere è il migliore dei tuoi, significa che qualcosa non va, significa che il portiere ha avuto molto da lavorare. Teo Hernandez, signori, non lo so, io sto cominciando a ricredermi su questo giocatore perché, sì, ti fa la partita da campione e poi te ne fa cinque, dove non incide, dove non lo vedi, sta sempre a terra, che cade, mamma mia. Leao, leao, l'ho detto l'altra volta e lo ripeto adesso, per me leao è un mezzo campione, non un campione, un mezzo campione. Nelle partite decisive leao non c'è, ieri era timido, lo vedevi timido e non provava mai l'affondo, l'uno contro uno, cosa che invece faceva Mbappé. E la palla subito, appena gli arrivava la palla, subito indietro per Teo Hernandez. Non è questo il campione, il campione è un'altra cosa. Krunic. Krunic io non so neanche se a Lecce potrebbe fare il titolare perché non so se a Lecce togliamo Ramadani per mettere Krunic in quel ruolo. Io vedere Krunic davvero, poi vedere il Milan in Champions, che va al Parco dei Principi, a Parigi, a giocarsi la Champions con Krunic come play, per me qualcosa non va. E qualcosa non va, non è andato neanche nel mercato estivo. E Pioli, Pioli non ne sta capendo niente, non ne sta capendo niente. Continua ad attaccare alto con squadre, e con queste squadre non te lo puoi permettere. E con Allegri ha perso la sfida perché Allegri proprio voleva che lui attaccasse alto, e ha vinto la sfida così. E niente, questo Milan è mal diretto, mal guidato proprio dal proprio allenatore, e così non può andare avanti. Quindi, proprio questa Champions è troppo per il Milan, è troppo. Non riesce a segnare, non fa un gol neanche se deve mettere la palla in porta con le mani. Così è difficile davvero, e a me sinceramente dispiace tanto. Forza Lecce.